Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale, come potete vedere finalmente è stato rilasciato il trailer del nuovissimo aggiornamento di Gran Turismo 7 a differenza di altri video, sapete che appena usciva l'aggiornamento facevo il video tradizionale dove si vedeva, no, ha aggiornato pure il like, non so se avete visto dove vi mostravo tutto quello che veniva rilasciato, ho deciso di cambiare approccio perché questo qui da quello che aveva detto Kazunori Amauchi è un big update quindi un aggiornamento pieno di contenuti, sono molto curioso di vedere, il video è uscito più o meno, ecco vedi, 26 minuti fa stavo lavorando a un video su WRC ma appena sono saltato di qua ho visto subito, andiamo a vederlo insieme, full screen vediamo un po' che cazzo hanno aggiunto, cazzo big update, spec 2 update, ok GT Sophie 2.0 solo su PS5 minchia come guidano su nuove piste, tracciati, vediamo no signori la neve hanno messo long track, no aspetta aspetta un attimo long track, short track e tre oval quindi sono, è una pista con tre configurazioni, ok molto bene minchia la neve raga finalmente da Gran Turismo 6 che non le vedevamo auto, vabbè queste già le conosciamo, la Charger RT Amy Challenger SRT, Daemon la Lexus LFA, non rompete più i coglioni, ve l'hanno messa la Mercedes Benz 190 e cazzo con questa si fanno grandi cose Nismo 400R la 911 G3 RS del 2022 molto bene, la Tesla Model 3 ma si dai, vabbè, ci sta, nel senso non la di che però no vabbè ragazzi ma finalmente hanno aggiunto la neve cavolo però in aggiunta potevano mettere che ne so, la Delta S4 qualche altra autoreale del rally visto che comunque nei file di gioco sono state trovate eh era il momento giusto cazzo mi ha messo la neve di notte quindi c'è anche il il meteodinamico eh non so se avete notato adesso non so se è neve provocata dalle auto o sta nevicando però vedo che c'è giorno-notte quindi mi sa che c'è anche il il meteodinamico ciclo giorno-notte in realtà il meteodinamico non lo possiamo sapere no mi sembra neve cacciata dalle auto però potrei sbagliarmi o non si vede bene in realtà allora forse molti non l'hanno capito ma oddio non è detto che l'abbia capito io ma credo sia così vedete che c'è scritto Sofi 2.0 questo non vuol dire che sarà rilasciata Sofi in modo definitivo sul gioco come è successo mesi fa dove ci sono stati degli eventi a Tsukuba al Sace e in un'altra pista che mo' non mi ricordo dove abbiamo provato Sofi per la prima volta questa è la versione 2.0 quindi è stata migliorata ma non è stata introdotta in modo definitivo nel gioco ecco è occhio qui come potete vedere stanno girando con delle GT3 nel tracciato di Road Atlanta quindi questo sarà un primo test ci troviamo nuovamente a Tsukuba ma con auto di tutt'altra cavalleria bella con la macchina lì e ok nuovamente Road Atlanta e ci troviamo a Le Mans con le gruppo 1 vediamo se c'è qualche dettaglio che salta all'occhio no non mi sembra ci sia nulla fuori posto sono tre giri a Le Mans sarà tosta eh con l'intelligenza artificiale Sofi sparata al massimo e boh basta per ora non c'è nient'altro andiamo a vedere sul sito traduzione in italiano perché noi non siamo studiati dal suo lancio il 4 marzo 2022 Gran Turismo 7 ha continuato incessantemente ad evolversi senza alcuna interruzione beh oddio c'è stato un mesetto che vabbè ora il 2 novembre 2023 verrà introdotto un aggiornamento di portata senza precedenti la versione Spec 2 aggiornamento 1.40 con questa versione aggiungeremo auto ancora più a 30 varie una tanto attesa pista innevata e tutta una nuova serie di funzionalità che miglioreranno ulteriormente il gameplay ci auguriamo che questo aggiornamento e diversione porti più soddisfazione e gioia alla tua vita in auto nel gioco mink ma secondo te è una risposta all'uscita di forza ma secondo me loro se ne sbattono i coglioni indipendentemente che il loro gioco sia inferiore o superiore secondo me non guardano ste cose avranno introdotto una categoria dedicata alle auto elettriche secondo me no campionati dedicati alle auto elettriche cazzo mi hai messo la Tesla mink ma ti premio così tanto correre con auto sulle elettriche oddio magari con una Tesla no avessero messo auto da piste elettriche ti avrei detto già di sì però vedremo poi eh perché ancora non sappiamo tutto quello che ci sarà comunque abbiamo un'auto del 2023 un'auto del 2022 ed è già qualcosa adesso sono tutte auto vecchie ma sti cazzo in realtà cioè a me va bene mink la Mercedes qui è troppo bella però eh qua bisogna creare delle gare personalizzate con le livre si fanno cose assurde verrà giunta la pista Lake Louise non rompetemi i coglioni sulla pronuncia non è una pista innevata originale con sede in Canada originale che cosa vuol dire pista reale eh no originale mi sa che è inventata non lo so in realtà non me lo ricordo questa è l'aggiunta tanto attesa di una pista innevata al programma è finalmente situata ai piedi delle montagne rocciose canadesi patrimonio dell'umanità è una pista del tutto originale ambientata all'interno di una fantastica stazione scistica il layout long track contiene di tutto dalle curve a bassa velocità e alta velocità a un lungo rettilino mentre lo short track si concentra su curve tortuose consecutivi in un layout compatto qua torniamo con le auto del rally con le mie controsterzate da paura c'è anche una pista trioval che ha solo tre curve e ti permette di fare quasi tutto il giro al massimo vabbè dai tipo gli ovali americani tutti e tre i layout sono su neve compatte e dispongono anche di illuminazione per le sessioni notturne devi equipaggiare la tua auto con pneumatici da neve minchia raga finalmente questi c'erano anche su gt sport o non li hanno mai più messi si vede che su molte cose come questa appunto hanno fatto retromarcia e niente adesso ci sono su gt7 verranno aggiunti tre menu extra menu extra 31, 32, 33 quindi qua solo di collezione delle auto road gong racers lexus e red bull x series verranno aggiunte tantissime nuove sfide tra cui le sfide settimanali no veramente le hanno messe finalmente che evolvono il modo di vivere i circuiti mondiali il padiglione world circuits dove potrai affrontare molte gare diverse in Europa america e asia si evolverà notevolmente nella spec 2 verranno aggiunte 5 gare di livello standard e 2 di livello esperto inoltre la gara arcade si evolverà nella gara veloce ok quindi non si chiamerà più gara arcade e sarà resa più facile da usare inoltre oltre ai ploti a standard sulle versioni ps5 sarà possibile gareggiare contro gran turismo soft il prototipo della gentiglia da corsa il cui sviluppo è ancora in corso vedete avevo ragione ci sarà un nuovo menu directory eventi che ti consentirà di cercare e partecipare facilmente alle gare da un elenco ci sarà anche una nuova funzione sfide settimanali che ti assegnerà premi per aver completato tutte le gare contenute al suo interno il menu delle sfide settimanali apparirà dopo aver visto il film finale vabbè devi completare il gioco se no in un nuovo set ogni settimana se no non ti fa andare avanti vediamo un po' le immagini se me le fa scorrere ok qui i soliti pick up ah ma è proprio cambiata la grafica di gioco vedete questi qui sono i 20 che abbiamo già fatto nella sunday cup hanno proprio cambiato la grafica ok vabbè noi le abbiamo già fatte però gt sofi e regolaria quindi adesso ogni volta che tu clicchi su asia america europa clicchi poi sulla pista ti apre questo menu per esempio qui ci troviamo a gran valley e ti dice vuoi gareggiore contro sofi o normale contro lì a di gioco ok va bene va bene ok queste qui invece sono le sfide settimanali minchia qua ci sfondiamo e ti dà anche come ricompense i biglietti della sfiga ok io li chiamo così perché ormai è un termine consolidato verranno aggiunti nuovi eventi licenza master no raga continuano le patenti nel padiglione 100 licenze verrà aggiunto un livello di licenza master no signorini dovrò bestemmiare non ci credo dove potrei apprendere gli rudimenti della guida sportiva partendo dall'applicazione dei controlli base verranno aggiunti 50 nuovi test più difficili che potranno essere affrontati dopo aver superato i test di licenza normale che noi abbiamo già fatto quindi andremo già con questi qua cazzo raga il luogo di incontro si evolve nei paddock no vabbè raga ma bellissimo il luogo di incontro dove puoi goderti rapidamente le corse online si evolverà nei paddock che simulano un parcheggio per le auto dei giocatori nei paddock puoi chattare con gli altri giocatori utilizzare le emoticon per comunicare nonché ingrandire le auto specifiche che i giocatori hanno portato per vederle da vicino e poter accedere a quest'area nei circuiti mondiali così come dal padiglione multigiocatore io ormai l'abbonamento al plazzo non l'ho più rinnovato poi vedremo la chat vocale però continuano a non metterla è una scelta raga sono loro che non vogliono se no la gente insulta sicuro è per il linguaggio fino a 4 giocatori potranno gareggiare a schermo condiviso 4 giocatori sulla stessa console raga orca troia tutti quelli che si lamentavano e non mettono più niente oh ma state bene zitti io non la userò mai però qua chi gioca su un 82 pollici sui 90 pollici o sui proiettori qua minchia fa fa ville la modalità multiplayer schermo condiviso da due giocatori verrà aggiornata per ospitare fino a 4 giocatori minchia l'hardware verrà spremuto proprio a goccia d'acqua puoi dividere un singolo schermo in 4 sezioni per far si che fino a 4 giocatori gareggi insieme allo stesso monitor no monitor raga no perché sboccate affittatevi un monitor 90 pollici perché se no è il delirio vabbè puoi cambiare auto nel menu pregara rendendolo più facile da usare che mai ogni giocatore devi avere un controller individuale vabbè questo è ovvio verranno aggiunti velocità dell'otturatore più lente rendendo le foto ancora più versatili vabbè magari questo non lo andiamo a leggere hanno migliorato la modalità fotografica e sono stati aggiunti nuovi spot di scapes vabbè magari qua mettete in pausa se volete leggere non sono cose così importanti verrà aggiunta una nuova dashboard dove potrai avere una panoramica dei tuoi progressi nel gioco eh cazzo ora è molto più completa numero di auto crediti aspetta fammi ingrandire l'immagine perché sennò menu completati menu bonus completati menu extra completati c'è tutto raga tempo giocato distanza totale percorsa tempo alla guida avete qualsiasi cosa ragazzi che dire arrivati a questo punto spero che questo aggiornamento vi abbia fatto tornare la voglia di giocare a Gran Turismo 7 ci sono un'infinità di cose da fare adesso tra i 20 nuovi il nuovo tracciato finalmente hanno aggiunto la neve la gt sofi 2.0 schermo condiviso a 4 giocatori hanno migliorato tutte le interfacce i menu cioè ma che cosa volete di più 8 quanto è che erano 7 auto aggiunte la 911 GT3 RS secondo me è il pezzo forte a livello di auto aggiunti in questo aggiornamento non vedo l'ora di provarla con il volante e niente io come sempre vi ringrazio per tutto il supporto fatemi sapere un vostro parere qui sotto nei commenti noi ci vediamo al prossimo video ciao